Se guardiamo la classifica rischiamo solo di farci venire delle paure e delle ansie. L'obiettivo principale è quello di cercare di vincere tutte le partite, da qui alla fine, come ho chiesto anche quando siamo arrivati, perché comunque la mentalità del pescare deve essere quella, specialmente quando si trovi a una posizione come ci troviamo adesso. Così Emanuele Cascione nella presentazione della sfida con Lentella. L'obiettivo è arrivare agli spareggi di slancio. Positivo l'impatto del neotecnico Biancazzurro che ha lavorato tantissimo sulla distanza tra i reparti e quindi sull'equilibrio di squadra. Sotto questo profilo risultati piuttosto lusinghieri. Resta il grande rammarico della finale di Cesena, disattenzione pagata a caro prezzo. A cominciare però dall'imminente gara con Lentella all'Adriatico bisognerà migliorare la proposta per esaltare le qualità degli attaccanti. Siccome abbiamo giocatori di grande bravura, anche sull'uno contro uno, quindi dobbiamo cercare di metterli in condizioni poi di giocare possibilmente più vicino alla porta. Questa è la cosa che in questo momento dobbiamo cercare di migliorare. Un solo assente, Pellacani, soliti fastidi al ginocchio operato. Aloy è rientrato in gruppo. Sarà riproposto lo stesso undici delle ultime due uscite, probabile, ma attenzione all'ex Meazzi, in grado di dare quel quid in più sul piano tecnico, soprattutto tra le linee, contro una squadra, appunto Lentella, i cui numeri sono senza dubbio eloquenti. 31 gol realizzati, quarto peggiore attacco, ma quarta migliore difesa con 32 reti incassate. Servirà insomma maggiore qualità. Ecco perché forse Meazzi o Tuniov in luogo di Sassà Aloy. Più che altro andiamo a affrontare una squadra differente al Cesena, differente alla partita col Ponte d'Era, quindi serviranno anche altre cose, non solo comunque le caratteristiche di Sassà. Dal canto suo Lentella, una delle delusioni di questo girone, sarà priva di Casarotto e Granata, entrambi infortunati. Dubbio, parodi, garattoni sulle fasce. L'ex Zappella, certo, della maglia da titolare davanti nel 3-5-2 di partenza, il tandem Giovannini-Montevago. Questa partita dovremmo cercare di essere sempre comunque compatti, attenti, perché giochiamo con una squadra che allo stesso tempo si difende molto bene, ha subito pochi gol in questo campionato e quindi devono cercare di fare qualcosa in più sotto l'aspetto offensivo.